Ciao ragazzi, dopo la quarantena finalmente si fa la prima pescata e si festeggia la grande perché finalmente sono riuscito a sorpassare le mille iscrizioni sul canale. Adesso vi presenterò anche la nuova intro e sono felicissimo perché ho avuto la fortuna di andare al lago del Piano a pescare e pescare in queste zone stupende, mi ha fatto veramente risollevare il morale dopo due mesi di quarantena. Quindi vi lascio al video, iscrivetevi al canale per supportarmi. Ora è il mio primo pesce rana! E' certo! Fanculo! Che eroe che sono però! Uccellacci! Uccellacci! Troppi uccellacci! Sì! Dai dai dai! Dai che scappotto! Dai che scappotto! Non è piccolo! E' piccolino sì però almeno ce l'ho! Leone! Leone! Oh la la! Bello lucetto! Con la Belly Splash! Eh va bene va bene! Splash! Splash ok però! Va bene che la Belly Splash però non troppo splash! e la Belly Splash! Bravo! Ti sei anche già slamato! Ma sei un bomber di razza! vai! vai bello! facciamo vedere l'esca! Belli Splash ha fatto Splash Porche! Figa, a che esca qua Dani? Se non arriva qua sopra un luccio qui non arriva più Ecco ragazzi qui c'è la misura di 13 cm della Belli Splash sempre di casa Rosmeyer che ho utilizzato nel video, volevo farvi vedere una cosa, una particolarità, volevo farvi vedere i tagli che ha questa gomma dopo tre mangiate di luccio è così però nonostante tutto quello che volevo farvi vedere questa gomma che secondo me è splendida che nonostante tutto io potrei andarci a pescare ancora per un bel po' perché nonostante tre mangiate di luci discreti la gomma devo dire che è ancora bella resistente e non ha perso la sua efficacia volevo ricordare poi inoltre un'altra cosa che praticamente questa gomma ha il paddle che funziona da dio ma non è tanto la particolarità di questa gomma il paddle ma il fatto di questa pancia questa pancia permette alla gomma nel momento nel momento della caduta di wobblare in questa maniera ed è ancora più attrattiva per quello che la consiglio veramente e niente vi lascio il resto del video bello bellissimo bellissimo questo questo è bellissimo questo è bellissimo questo è bellissimo bellissimo questo è bellissimo questo è bellissimo un bellucciotto bello 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 e allora bello bello bellissimo bellissimo bello are you do it mo bra no 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 yes ma bello qui ma niente bello bello ba no 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 niente uomo bello bellissimo�� biがとうon uomo benayashi oh bi aired mierapeuti oh ma voyeurmi Arribato Ancora con la Io che male Mi ha scortato il dito Bastardo Bastardo Maledetto Mi ha proprio preso in pieno Facciazza di denti Ancora belli splash Ok dopo di questo Possiamo andare Mamma mia Bello Bellissimo Bello lui Il sangue è il mio Maledetto Che male Sì Sì